Nuovo video su iPhone 15 Pro, questa bestia maledetta di cui tutti quanti mi state chiedendo cose all'impazzata e quindi oggi sono qui a farvi un video dedicato alle fotocamere di questo telefono e a quali possono essere i loro utilizzi. Per l'occasione abbiamo un nuovo assistente, io ve lo faccio vedere, lui è Jon Snow. Nel corso di questo video non mi sono servito di modelli in carne e ossa, ma ho utilizzato il nostro amico Jon Snow per andare a dimostrare come possiamo utilizzare le fotocamere di iPhone 15 Pro. Se questo tipo di argomenti possono essere per voi di interesse io vi invito innanzitutto a iscrivervi al canale e in secondo luogo andate a recuperare la playlist già dedicata a questo device. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare e mi occupo di fotografia. Oggi andiamo a vedere cosa fa iPhone 15 Pro, come sono configurate le sue fotocamere e soprattutto per che cosa possiamo andare a utilizzarle. Per quanto riguarda le impostazioni interne del device, soprattutto per quanto riguarda i formati RAW, quelli un po' più complicati, vi rimando a un video già pubblicato dove ho già fatto vedere tutto nel dettaglio. Oggi andiamo a vedere per che cosa si possono usare queste tre o più fotocamere che sono incapsulate all'interno del nostro device. Partiamo con questa prima immagine che vi faccio vedere. Questo ovviamente è il grand'angolo, l'ultra grand'angolo, lo 05 per intenderci. Quando vedete 05 tra le fotocamere del vostro iPhone, questo qui è il grand'angolo più ampio che abbiamo a disposizione. È un grand'angolo che dovrebbe ricordare un 13 mm rapportato al sensore full frame. È ovviamente molto molto ampio, quindi ci permette di catturare efficacemente soggetti che possono essere dei paesaggi, degli interni, insomma una fotografia di interno classica. Possiamo anche realizzare dei ritratti tenendo conto che c'è una distorsione abbastanza pronunciata che non è sempre gradevole, però comunque possiamo usarlo per raffigurare delle persone all'interno di uno spazio come proprio ci fa vedere il nostro Jon Snow. In questo caso si tratta di un campo lungo dove Jon Snow è collocato all'interno dello spazio e lo spazio intorno a lui ha un carattere predominante addirittura sulla sua figura. In parole povere, lo spazio che lo circonda occupa una porzione di fotogramma maggiore rispetto a lui che pure ne è il soggetto. Andiamo avanti e passiamo alla seconda fotocamera, quindi sarebbe il 24 mm, la fotocamera quella che potremmo definire normale. Come potete vedere abbiamo un'inquadratura che non è troppo diversa, perché è comunque sempre grosso modo un campo lungo dove abbiamo il nostro Jon Snow collocato nello spazio ma abbiamo comunque tantissima aria intorno a lui in tutte le direzioni, quindi è una fotocamera che ci permette di fare ritratto ambientato ma anche di fare un po' di paesaggio. Non solo, ma se noi ci avviciniamo, e comunque queste fotocamere ci permettono di avvicinarci molto, possiamo anche andare a fare un ritratto un pochettino più stretto, un mezzo busto o qualcosa del genere. Di nuovo, siamo sempre sul lato grandangolare, quindi avremo un po' di distorsione se andiamo a utilizzare questo tipo di lente per fare le nostre foto di ritratto. Sarebbe in realtà consigliabile arretrare e utilizzare una delle lenti con le focali più avanzate in maniera tale da minimizzare la distorsione sui soggetti, cosa che ovviamente se stiamo facendoci un selfie non possiamo fare. È proprio l'esempio che vi faccio andando a vedere questa immagine che è scattata con la fotocamera, quella col numerino 2 all'interno del nostro menu di iPhone, che sarebbe, se ricordo correttamente, un 50 mm grosso modo. Qui si tratta di un'ottica non più grandangolare, con cui sicuramente possiamo fare un po' di ritratto. È una cosa molto simile a quella che vedete in questo momento come angolo di campo, quindi possiamo andare a fare un ritratto un po' più vicino di una persona, possiamo fare dei dettagli di oggetti mediamente piccoli, come possono essere, che ne so, un piatto per esempio. Se stiamo facendo fotografia di food, questa potrebbe essere una buona camera da cui cominciare. Se stiamo facendo ritratto molto close-up, anche questa potrebbe essere una camera da cui cominciare, perché comunque ci permette di avvicinarci. Una cosa che vi segnalo, ma come ne abbiamo già parlato in un altro video, la funzione macro su iPhone 15 Pro a me non è piaciuta per niente, nel senso che la macro vera e propria funziona solamente se stiamo usando il grandangolo, che per me è una boiata pazzesca, ma immagino che sia stato fatto così per esigenze costruttive, magari di contenimento dei costi, hanno detto è cascato così, facciamolo funzionare così, se no non troviamo una soluzione dobbiamo alzare il prezzo. Quindi ce lo facciamo andare bene, è un buon telefono, a me non dispiace, io lo uso, mi piace, però la modalità macro vi dirò non la uso mai, perché se fai macro seriamente, quindi vuoi usare la macro sulle lenti, quelle un pochettino più spinte, viene fuori una porcheria, perché in realtà stai ricampionando quello che viene catturato dalla fotocamera grandangolare e lo stai espandendo per catturare l'angolo di campo che vuoi tu, però il risultato è qualitativamente molto poco appagante, quindi per quanto riguarda la macro, secondo me non ci siamo su questo telefono, ci sono altri telefoni che la fanno molto meglio, tra cui l'iPhone 11 Pro, io ho in tasca anche un 11 Pro, che era il mio telefono principale fino a qualche anno fa, secondo me la macro la fa meglio, la fa meglio perché mi permette di fare la macro con la terza fotocamera effettivamente, invece di passare a farmi fare la macro con il grandangolo e poi espandendomelo, trovavo un sistema migliore sulle versioni precedenti. E passiamo all'ultima immagine che vi faccio vedere oggi, come potete vedere questa è la fotocamera contrassegnata dal numerino 3 sul display del nostro iPhone, è una fotocamera che dovrebbe corrispondere a un 77 mm, quindi diciamo un 80 mm, è idealmente una lente perfetta per fare ritratto, quindi se vogliamo fare ritratto da vicino possiamo andare a utilizzare questa ottica, vedete che rispetto alle prime foto scattate col grandangolo, quando utilizziamo una focale più lunga, stando vicini al nostro soggetto, lo sfondo tende a essere un pochino più sfocato, quindi anche su un dispositivo come un iPhone che ha un sensorino piccolo così e dei lentini minuscoli, però riusciamo ad avere un minimo di separazione, ad avere un minimo di sfocatura dello sfondo, anche senza ricorrere alla modalità ritratto che è uno sfocato finto artificiale e un po' si vede, però anche facendo in questo modo riusciamo comunque a staccare un pochino il soggetto dallo sfondo. Ora sicuramente questa lente la usiamo per fare ritratti e la usiamo anche per tutte le casistiche già dette in precedenza, cioè dobbiamo fotografare qualcosa di piccolo da vicino, sicuramente questa è l'ideale, attenzione però perché c'è sempre il problema della macro e per darvi un'idea io ho fatto delle prove sugli orologi perché è un oggetto che ho sempre a portata di polso, mettiamola così, nel momento in cui io mi fotografo la mano intera con sull'orologio, riesco a prenderla correttamente con praticamente tutte le ottiche, se però voglio zoomare solamente sull'orologio quello che succede è che mi passa automaticamente in modalità macro. Ora fare la fotografia di qualcosa di piccolo da vicino con il grandangolo viene a mio parere una grandissima porcheria perché distorce tutto, perdi completamente ogni senso di prospettiva, quindi avvicinarsi con un grandangolo può essere carino, può essere una guasconata, però non è una cosa che fai sempre, anzi non la fai quasi mai, l'ideale invece sarebbe avvicinarsi con una lente che distorca il meno possibile, quindi la scelta di mettere la macro sul grandangolo secondo me è stato un autogol clamoroso. Diciamo che se vogliamo fotografare qualcosa delle dimensioni di un orologio o del nostro John Snow, se è per questo, dobbiamo avvicinarci così tanto che entra in gioco automaticamente la modalità macro sul nostro dispositivo e questo ha l'effetto di rovinare la nostra immagine, quindi io in quel caso vi consiglio di arretrare un pochino perché se riuscite a disinserire la modalità macro andando un po' più indietro e quindi magari facendo un framing più ampio del vostro soggetto, quindi tagliando meno sfondo banalmente, però la qualità della foto sarà superiore. Detto questo, come già dimostrato, le fotocamere funzionano, funzionano anche abbastanza bene, la qualità e la risoluzione non sono per niente male considerato il tipo di dispositivo che è le dimensioni del sensore e le dimensioni dei lentini, io sono contento di questo telefono, mi permette di fare dei bei giochini, non sostituisci il mio setup, tant'è che sto riprendendo con ben altra roba adesso, il telefono lo tengo in mano perché non uso certo questo per fare neanche i miei contenuti social, quindi sono due cose proprio diverse per me, però quando sei fuori sicuramente ti fornisce tutta una gamma di ottiche che puoi utilizzare per fare delle cose interessanti. Io per esempio questo lo uso per fare paesaggio, quando sono in giro, non ho dietro la mia macchina fotografica, magari mi capita un bel tramonto, metto l'ultagrandangolo e faccio un bel paesaggio, mi capita di fare dei ritratti o magari dei video verticali, di solito uso il 24, quindi l'ottica normale, quella contrassegnata dal numero 1, mi capita magari di voler fare dei ritratti con un pochino di sfondo sfocato o comunque con la prospettiva giusta dei bei ritratti in formato verticale, utilizzo il 2x o il 3x e quindi vado a scattare con l'ottica più vicina possibile a un 85-180 mm, quindi a seconda di quello che devo fare c'è una lente giusta per fare esattamente quella cosa. Poi le regole non sono ferre, io posso benissimo fare il ritratto con l'ultagrandangolo e se ho delle idee carine può venire molto bene, così come io posso fare paesaggio con lo zoom più pronunciato che ho e se faccio un bel framing viene fuori qualcosa di carino. Ecco, fare macro col grandangolo secondo me lascia un po' il tempo che trova, nel senso che non è una bella foto, le proporzioni risultano sempre falsate e quindi non è un bel vedere, almeno secondo me, poi a qualcuno può anche piacere. A questo punto amici vi chiedo, avete altre domande sulle fotocamere di questo mirabolante device di cui ormai abbiamo parlato in lungo e in largo? Mi ricordo che ci sono delle altre richieste per quanto riguarda lo sfocato in particolare è la modalità ritratto, prima o poi preparo anche quei contenuti, però nel frattempo ho cominciato a portarvi un contenuto per spiegarvi come funzionano queste camere. Ovviamente questo è un video da livello base, qui stiamo parlando proprio della grammatica di come si compone un'immagine, quindi non è un video per utenti avanzati. Se volete un video per utenti avanzati, posto che mi chiediate delle cose che sono in grado di fare, perché a volte degli utenti pur non essendo professionisti mi fanno domande di cui io ignoro la risposta, quindi se mi chiedete delle cose che sono in grado di portarvi senza impazzire, state certi che lo farò, per cui il box dei commenti è qui sotto, fatevi avanti. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale per non perdere eventuali puntate successive. A questo punto io vi saluto e io e Jon Snow vi diamo appuntamento al prossimo video. Non sai niente Jon Snow.